ciao a tutti ragazzi e niente oggi faccio il tour della roulotte adesso non ci sono le tende perché le stiamo lavando e niente iniziamo col tour in alto ci sono dei cassettoni per rimettere le cose questa è la dinette che diventa letto matrimoniale è spaziosissima spaziosa davvero tanto il tavolino si abbassa e poi si forma la dinette scusate il casino adesso quando ci spostiamo ma la stiamo un po mettendo a posto la stiamo pulendo qui c'è l'entrata adesso c'è la tenda un po messa male perché dobbiamo finire di fare dei lavoretti dobbiamo mettergli la zanzarire tutto qua ci sono dei piccoli cassetti tipo degli scomparimenti per metterci delle cose carte cose varie vabbè questa è la scaletta di entrata poi qua c'è la stufa la stufa che va che va teoricamente va a gas e abbiamo il mobile con adesso non ci sono i vestiti con la mensola sotto mensola cioè è scomparato sotto e scomparato sopra e questo sacchetto per mettere le cose intime praticamente l'intimo e poi sopra ci si mette le giacche cose varie qui abbiamo anche un appendino per mettere i giubbotti e sopra abbiamo il condizionatore dell'aria calda e dell'aria fredda tutte e due e questo va elettrico e spostandoci abbiamo la cucina adesso metto a fuoco un attimo ok abbiamo la cucina con ripeto scusate il casino tra i fuochi tra i fuochi e va benissimo e qui c'è il il para fumo e qua c'è il lavandino lavandino che si alza e si abbassa come tutte le roulotte niente la cosa molto importante che ha tra i fuochi perché la roulotte che rampa rimane a due fuochi qui c'è l'oblò della cucina che adesso è chiuso comunque molto finestrata infatti adesso ripeto non c'abbiamo le tende perché le stiamo lavando sopra la cucina abbiamo dei cassetti questo e questo dove ci mettiamo spezie e cose che riguardano la cucina spettate che metto a fuoco e sotto qua e qua abbiamo due tipo mensoline che ovviamente c'erano già che dove ci si mette zucchero mestoli e piatti sotto abbiamo altri cassetti abbiamo il cassetto per le posate e sotto il cassetto per le pentole per altre cose e qui c'è il frigo frigo che questo è il frigorifero e sopra c'è anche il piccolo faridore vicino abbiamo due altre scompariti per mettere torcia e robe varie anche la sotto tovaglie sempre riguardante la cucina e li abbiamo fatto due 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 piccoli ganci per metterci le presine ora passiamo alla zona notte questo è il letto matrimoniale già fatto aspettate che metto a fuoco con finestrone davanti finestra laterale questo è il letto sotto al letto c'è il gavone enorme che si apre da fuori da dentro e sopra abbiamo altri cassettoni sia qua che qua e qua abbiamo il porta televisore che c'è sia da questa parte sia da questa qui c'è una piccola mensolina che viene giù se vuoi fare la colazione sul letto molto comoda e girandoci c'è il lavandino separato dal bagno e due mobiletti per metterci le cose e un altro mobiletto qua e delle mensoline qua 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 c'è il bagno piatto doccia wc è scomparato per la carta igienica qui dopo ci si mette lo shampoo il doccino e l'oblò sopra la cucina c'è un oblò molto finestrato molto luminoso che ci permette di far entrare più caldo possibile che ci permette di far entrare più caldo